Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 25 luglio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Facile per tutti, viaggiatori e casalinghi. Giornata facile per tutti, per chi è in viaggio impegnato a godersi l'estate o a trattare affari facendo le veci del collega assente, oppure per chi è a casa a curare faccende personali lasciate in sospeso. Comunque vada la vostra giornata, con la Luna, Saturno e Nettuno intrigono al vostro segno e urane in se stile, spenderete sicuramente bene il vostro tempo, all'insegna della collaborazione e degli ideali condivisi. L'amicizia più dell'amore è la bandiera da tenere alta, senza complicità, infatti, anche la coppia fa acqua, la vacanza perde colore, il lavoro coesione e mordente. Salute protetta dal grande Giove alle spalle, qualsiasi problema vissi presenti in giornata avrà dimensioni contenute e sarà facilmente arginabile. Trionfo, gioia, felicità e realizzazione. In amore è il successo pieno, l'appagamento di sentimenti e desideri, la riuscita di progetti. Amore solido che presto potrebbe sfociare in un fidanzamento importante, in una convivenza, in un matrimonio. Potrebbero arrivare, da un momento all'altro, notizie piacevoli, importanti, che annunciano il successo. Decisioni importanti in ogni campo, ottime prospettive sul lavoro, negli impegni, tra amici. I single potrebbero incontrare l'anima gemella o trarre successo pieno dai loro nuovi incontri. Qualcuno vi osserva interessato al vostro mondo, tuttavia la situazione potrebbe risultare complicata se non date un piccolo aiutino a farsi avanti e presente. Oggi vi sentirete particolarmente affascinanti e questa vostra carica saprà regalarvi qualche successo importante. Giornata molto noiosa e di routine. Cercate di distrarvi almeno in serata senza strafare ma creando le occasioni giuste per una sano divertimento. Attenti allo stress. Oggi non abusate a tavola, fate in modo da non essere tentati. Quindi meglio escludere a priori certi cibi e certe bevande. E come potreste affrontare il vostro futuro se oggi non riflettete sul vostro presente seriamente? Dovete cambiare alcune cose proprie a partire da oggi. Coraggio non è difficile. Se farai un'opera buona, ti sentirai felice. Sarai altruista e generoso. Cose che finora hai tenuto nascoste potranno venire alla luce. Oggi dovreste imparare la semplicità, i rapporti con la persona a voi cara si potrebbero complicare proprio a causa del vostro modo di affrontare alcune situazioni. Un atteggiamento che alla lunga vi renderà pesanti. Le vostre risorse non sono infinite e dovreste limitare le spese al massimo in questo periodo. rischiate di dover contrarre qualche debito, anche se di lieve entità, che non favorirà il vostro umore. Favoriti i rapporti con gli amici. Qualcuno ti ammirerà in silenzio. Dedicati di più alla vita privata e domestica. Non fumare troppo. E soprattutto non mangiare troppo. Profilo dei transiti che mostra la luna, luminare delle emozioni e vostra governatrice ideale, amica del vostro segno dai romantici pesci, ad allietarvi questa giornata di metà luglio in specie al modo sennati nella seconda decade. Alcune contrarietà dei giorni scorsi sono così allontanate o messe tra parentesi momentaneamente. Dolce e introspettiva la luna acquatica in pesci intrigono al vostro segno, abbracciata a Saturno. La sua sensibilità sfata la cattiva fama del compagno di viaggio, filosofo sì, ma anche duro, intransigente, respingente a oltranza. Se ipotizzate un viaggio non è escluso che stavolta sia solitario, magari su percorsi spirituali attualmente tanto in voga, dal cammino di San Francesco a quello di San Benedetto, oppure la via francigena. Quante opportunità per gli amanti dello zaino e del saccapelo. Ci vogliono gambe buone, però, e tanta volontà, anche quando la strada di fa impervia e insopportabilmente lunga, cosa che alla pigrizia cancerina va poco a genio. Amore ed eros. In coppia aria romantica, l'atmosfera gioiosa dell'estate, tra mare e collina, ma anche tra antichi borghi o capitali straniere, fiorisce e matura anche l'intesa, vedete il partner sotto una luce diversa e tutto a un tratto vi rendete conto quanto siete cambiati entrambi dal giorno del vostro incontro. L'essenziale è farlo insieme, seguendo lo stesso ritmo, nulla va dato per scontato. La luna in pesci irradia su di voi influssi magnifici e vi consente di sintonizzarvi in maniera completa con il vostro o la vostra partner attuale. Sorretti anche da uno splendido urano, che si trova nel passionale toro, potrete contare su una forza del desiderio che vi fa ritrovare un'armonia completa nella sensualità e nell'ardore erotico dell'unione, armonia che, forse, credevate perduta o irripetibile. Questo aspetto vi corrisponde in modo più incisivo se festeggiate il vostro compleanno da 27 di giugno e il 10 di luglio. Sensibilità, profondità, dedizione, sono gli ingredienti che vi aiutano a dare spessore e unicità al vostro rapporto d'amore. Lavoro e denaro Clima insolitamente rilassato, in ufficio o in fabbrica fate ciò che vi compete, svolgendo, se occorre, anche il ruolo di altre. L'obiettivo, però, non è farsi belli agli occhi del capo, è l'agenda straordinariamente vuota a darvi la spinta, concentrare la maggior parte delle incombenze nei primi giorni della settimana per non arrivare a ridosso delle ferie ancora o berati. Alle prese con i libri chi ha debiti a settembre o sta preparando la tesi, contando sulle vacanze per ultimarla, la cultura non va in vacanza, casomai è la vacanza a indirizzare alla cultura. Svolgete una professione che ha a che fare con lo spettacolo, l'arte e la musica. Il passaggio di Nettuno in buon aspetto per il vostro segno e specie se siete nati dal 18 al 22 di luglio vi favorisce in ogni dimensione che simili attività possano rappresentare per voi. Benessere. L'acqua, il vostro elemento, è anche la medicina più apprezzata. Se abitate vicino al mare o al lago tenete duro ancora questa settimana, poi anche il fisico, con tutta quell'acqua fresca, rigenerante, trasparente, avrà la sua razione di coccole. La salute ci guadagna, in particolare fegato, reni, pelle sul piano fisico, equilibri energetico e armonia sottile su quello sottile. Per lei, è solo il 24, ma già pensate alle fere o almeno al weekend è con ragione. Intanto si avvicina il momento magico di chiusura di fabbriche e uffici, mentre si aprono gli alberghi sottomarini e i campeggi dei boschetti di alghe rigeneranti. Avete prenotato, vero? Per lui, pazzi per il fai da te ma stranamente pasticcioni, passate la serata dopo il lavoro a tentare riparazioni improbabili. Fareste meglio a contattare un artigiano del meschiere. Colore delle emozioni, azzurro. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 7, finanze, 9, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo. Grazie.